Hai scelto che time is money. Hai scelto il telepass, così risparmi tempo. Hai scelto il film online, risparmi tempo e soldi. Hai scelto la spesa online, risparmi tempo, soldi, nervi. Per luce e gas invece non scegli e non risparmi. Cambia, scegli Sorgenia e scegli tutto online. Sai quale energia, a quale prezzo. Risparmi tempo e soldi. Sorgenia, your next energy.